Continuiamo con i premie. Abbiamo deciso di chiamarlo un premio e questo lo ha. Io direi di andare a vedere il video. Grazie a tutti. Siamo sul palco Valerio Benedetto, il presidente della Miss Voice. Ciao. Eccolo qui. Scusate. Scusate. Piccoli intorni. Allora, lui ha risultato che non aveva ancora compiuto 16 anni in eccellenza. Tra l'altro da titolare, una partita finta 3-0 è stato uno dei migliori in campo. L'anno scorso è in prima categoria con l'ospedalese e quest'anno sei arrivato appunto a giocare con l'argentina, insetti e siglare i tuoi gol. Ecco il punto giù per cui abbiamo deciso di assegnarti questo premio Explode. E quindi, Damiano, mi passi microfono per Alessandro. Volevo chiedermi appunto un po' anche l'emozione di questa stagione, di questo saldo, perché sono stato importante dalla prima categoria alla Serie D, anche se tu hai già iniziato a prendere dopo l'eccellenza. Sì, sicuramente è stato un saldo importante, però l'abbiamo, cioè l'obiettivo alla fine è sempre primata, quindi è una cosa da affrontare. E' stato un anno difficile, perché l'argentina, ne sanno tutti, l'anno che è stata, però è stato comunque un anno bellissimo. E' il futuro, perché l'idea si muove qualcosa? Adesso, con Vincenzo e San Giovanni, la futbolprensima ragione, che devo ringraziare, che hanno voluto, che hanno voluto, per la loro, per tutti i testi. E quindi vedremo, vedremo qualcosa, qualcosa si sta cominciando. Sicuramente Damiano sarà il primo a scrivere un libro. Sì, assolutamente, il primo a sapere di sicuro. E non faccia cosa, non è un momento in realtà, sì, si prende. Io vi ringrazio. Grazie a te. Perché non siete aspettati, sono veramente contento e voglio essere questo. Meritato. Grazie a me. Grazie.